Noi puntiamo molto su un forte incentivo e aiuto alle famiglie italiane, perché pensiamo che la famiglia sia stata la spina dorsale che ha consentito all'Italia di reggere nel momento della crisi e come Ministro dell'Interno io voglio dare una mano d'aiuto a quei comuni che a differenza di altri non sono stati egoisti e sono stati accoglienti e poi un grande investimento sulla sicurezza, sulle forze dell'ordine, per una importante legge sul merito della polizia e per rendere strutturali gli 80 euro per i nostri uomini e donne in divisa. Aggiungo anche che lavoriamo per far sì che ci siano davvero tutte le nuove assunzioni delle quali si sta parlando in queste ore.